Dalla grande alluvione dell'Arno del 4 novembre 1966 fino agli eventi climatici più recenti e devastanti, svolgono oggi un ruolo di primo piano l'analisi dei rischi e la prevenzione. Questi i temi della giornata sulla pianificazione degli interventi per la sicurezza con un webinar organizzato dalle autorità di distretto dell'Appennino settentrionale e centrale che si è tenuto a Palazzo Strozzi Sacrati. Nell'autunno dell'anno scorso noi vedemmo che Pisa rischiò l'alluvione, arrivò a 80 centimetri, meno di un metro, dalla fine delle arcate. 5 milioni di metri cubi d'acqua venivano raccolti nell'invaso di Rofia, nel comune di Samniato, costruito dalla regione toscana negli anni precedenti e che proprio da un paio d'anni è veramente in funzione. Lo scolmatore che da Cascina a Fornacette porta verso il mare finalmente funzionò a piano regime. Quindi le opere di difesa del suolo sono fondamentali nella loro prevenzione, nel loro modo di riequilibrare quello che hanno in qualche modo squinternato i cambiamenti climatici. Tra le relazioni sull'indicatore di rischio e i piani di gestione, il rapporto tra i costi e i benefici ed il controllo dei territori. Il geologo Mario Tozzi ha tenuto un focus sulla prevenzione di dissesti e pandemie.